Fratelli bianconeri e non, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, oggi 31 dicembre 2017, è arrivato l'ultimo giorno dell'anno e Damon è qui, nella sua macchina, che sono uscito per andarmene a fare un giro, in una bella giornata di sole non particolarmente fredda, e sono uscito, mi sono fermato in questo posto molto tranquillo, che amo frequentare proprio perché dà una grande tranquillità, per farvi gli auguri, per farvi gli auguri di un sereno 2018, a voi e a tutte quante le vostre famiglie. Vi auguro di realizzare i vostri sogni ragazzi, tutti, che siate milanisti, juventini, interisti, non mi interessa nulla, per me siete un gruppo di amici, tutti, con i quali alle volte ci scanniamo un po' e va tutto bene, con i quali alle volte ci sfottiamo un po' e tutto va bene, però, come chiedo sempre io nel mio canale, io vi chiedo di rispettarmi, ma soprattutto chiedo di rispettare voi stessi. Se nel mondo ci fosse un pochino più di rispetto, sicuramente le cose andrebbero meglio di come vanno. Non voglio farvi una morale, ci mancherebbe altro, non sono un prete e non ho la pretesa di far morali a nessuno, però il rispetto manda avanti il mondo. E io nel mio canale questo vi chiedo, moltissimi di voi lo hanno capito, poi c'è qualche spiritoso che spero di portare sulla retta via. Capite come quando vanno a prendere le pecorele, ho le pecore nere, io provo a fare questo, ovviamente lo faccio simpaticamente, però credo che sia giusto perché il rispetto nel mondo è la prima cosa. Fatta questa piccola morale, vi rinnovo gli auguri, vi auguro a tutti voi, a tutti noi, ci auguriamo di realizzare tutti i nostri sogni nel 2018, indipendentemente dall'età, indipendentemente dal pensiero, indipendentemente da tutto. Io vi faccio non un cesto, vi faccio un mondo di auguri a tutti voi, sperando che il 2018 ci porti quelle cose che ognuno di noi vorrebbe. Non ho molto altro da aggiungere ragazzi, questo è un video di fine anno, è un video breve, è un video che ci tenevo però a fare ed è un video che veramente spero che ad alcuni possa portare tra virgolette un po' di fortuna perché abbiamo bisogno anche di quella. Un buon inizio anno a tutti voi e mi raccomando stasera andatevi a divertire ma non fate i matti perché purtroppo l'ultimo dell'anno succede sempre qualcosa a qualcuno. Usate la testa ragazzi e divertitevi perché stasera è una serata in cui bisogna soltanto divertirsi. Cosa farò io? Me ne starò davanti alla televisione? Tranquillo, guarderò qualche programma così, mi guarderò un po' di video sul tubo che ormai è diventata una parte integrante della mia vita, non ci avrei mai creduto, ma a tutti quelli che escono, a tutte le ragazze che stasera si andranno a divertire, a tutti i ragazzi che stasera faranno quel qualcosa di più, magari anche per conquistare la persona che uno segue da un po', ma fatelo nel modo giusto, ripeto, usando sempre questa. Vi voglio a bene tutti ragazzi, forza Yume, come sempre, fino alla fine, un grande 2018 a tutti noi, un abbraccio da Demon, ciao.